Come siamo noi artisti? Come siamo? Se non andiamo giù di morale... ...e se non avessimo qui? ...e se non avessimo qui... ...e le nostre ragazze! Concentitevi di ringraziare Susanna! non piangere che adesso c'è una verifica di storia grazie a tutti e adesso salutiamo anche Silvia Poschero abbiamo finito mettere l'ultima sigla chiudiamo con la con la sigla delle sigle delle sigle ciao a tutti ci si sente si vede alla prossima idea